Ben ritrovati alle previsioni mete di martedì 14 febbraio. Affoggia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14 gradi, 4 gradi invece per la minima. Serata e notte tranquilla con cieli sereni. Per ora è tutto, buon proseguimento con i nostri programmi.